Siamo in compagnia di Mirko Gazzato per Refit Style nel loro stand qua al Festival della Vela. Ti chiedo subito che cos'è Refit Style? Refit Style è un'azienda che ha sede a Trieste, a Muggia, e noi siamo gli importatori esclusivisti per l'Italia del Permatech, che è uno dei rivestimenti sintetici che sono l'alternativa per il legno naturale oggi nelle barche. Che cosa proponete qua al Vela Festival al nostro pubblico? Proponiamo appunto il Permatech come alternativa e molti cantieri e privati adesso si stanno orientando proprio su questi materiali per ovviare ai problemi e comunque all'impegno che può portare il Tech oggi nelle barche, nella nautica. Il Permatech immagino sia molto più semplice da tenere, molto più semplice da revisionare anche? Diciamo che il punto di forza è proprio la manutenzione, quindi non c'è manutenzione, dura molto di più nel tempo e come dicevo prima appunto va a portare via tutti quei grossi problemi che ha il legno oggi nelle barche. Chi è oggi quindi che si avvicina alla vostra ditta, alla vostra azienda? Chi è che oggi usa i servizi di Refit Style? Gli armatori che scelgono il sintetico oggi lo fanno proprio per risparmiare tempo, per avere quel senso di ecologia, perché chiaramente essendo un materiale sintetico non vengono abbattuti i alberi, quindi non si va a toccare quella che è la natura e chi vuole vivere la barca ha tutto pieno, quindi non hanno il problema che possa cadere qualcosa sopra, quindi di macchiare il materiale, non hanno il tempo della manutenzione ordinaria che il legno ovviamente ha. Io ringrazio tantissimo Mirko Gazzato, ringrazio tantissimo Refit Style, da Refit Style è tutto, linea al palco del Tagoer Vela Festival.